Tutto è pronto a Nuoro per la seconda edizione del trofeo Chichito Zuddas, una manifestazione sportiva riservata ai calciatori dalla categoria Pulcini ed Esordienti in programma sabato e domenica negli impianti sportivi di Viale Costituzione. All'evento parteciperanno 10 squadre provenienti da tutta la Sardegna. Il programma della manifestazione è stato illustrato stamattina a Nuoro nel corso di una conferenza stampa. All'incontro sono intervenuti Sebastiano Cocco, assessore comunale allo sport, Paolo Zuddas, figlio di Chichito e organizzatore del torneo e Gian Battista Conco, dirigente del Santupredo, società che insieme alla Polisport utilizza l'impianto di Viale Costituzione. L'assessore Cocco ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa dedicata al calcio giovanile e che porta il nome di un dirigente che ha ricoperto anche cariche amministrative fino a quella di sindaco. Nel dettaglio del programma è entrato Paolo Zuddas che ha sottolineato come ci sia la volontà di far crescere il torneo fino a farlo diventare di statura internazionale. Gian Battista Conco ha ricordato la collaborazione che da tre anni lega il Santupredo alla Polisport. Sicuramente è una manifestazione legata ai giovani, sabato 11 giugno avremo il torneo dei Pulcini, domenica 12 invece gli esordienti. Sì, sarà un torneo, abbiamo dato questo nome appunto perché mio padre si è sempre occupato con l'atletico ma in generale si è sempre occupato di sport e di ragazzi appunto e di bambini. Il torneo è un torneo in crescita, siamo alla seconda edizione, speriamo di farlo diventare un torneo anche a livello internazionale. Ringraziamo appunto tutti gli sponsor oltre che l'amministrazione che ci ha aiutato e sostenuto in questo percorso. Niente, vi aspettiamo tutti, sarà una bella festa e speriamo appunto di ricordare anche mio padre e tutti insieme.